Una grande novità firmata Rattiauto, profilo slanciato ed aerodinamico, design innovativo, stile e prestazioni dinamiche, chi ha Sorrento è il SUV più desiderato del momento. Progettato seguendo i criteri di spazio e modernità, propone elementi di pregio senza precedenti, il cruscotto dalle linee morbide e la plancia volgente ti conquisteranno nel segno dell'alta classe. Potente e raffinato, è stato concepito per garantire un'esperienza di guida unica, per te e i passeggeri, inoltre in grado di offrire una serie di funzioni intelligenti. I sedili divisibili e pieghevoli in seconda fila possono essere regolati in qualsiasi combinazione, per accogliere i passeggeri o trasportare anche oggetti, lunghi, larghi o ingombranti. A bordo di chi ha Sorrento è impossibile passare inosservati, scopri la grande promozione firmata Ratti Premium visitando il nostro sito, seguici su Facebook, Instagram e Twitter. Prenota il tuo test drive, vieni a trovarci, siamo alla Ratti, non solo auto, ci troviamo Barzago nel cuore della Brianza a solo 30 km a nord di Milano.